Continuano i furti all'interno delle abitazioni in provincia di Arezzo. I ladri sono stati immortalati mentre uscivano da un'abitazione dalle telecamere di videosorveglianza. Come in passato anche in questo caso sono state prese di mira alcune zone della città. Via Romana, zona San Marco, la zona residenziale del Giotto e quella dello stadio comunale. I ladri hanno scelto per lo più gli appartamenti a piano terra, villette, abitazioni singole o piccoli condomini. Probabilmente zone e abitazioni già studiate in precedenza dai malviventi che una volta capiti i movimenti dei proprietari sono riusciti ad introdursi all'interno degli appartamenti portando via denaro oggetti di valore monili e preziosi. Un modo superandi molto simile in tutti i colpi, per questo le forze dell'ordine pensano che dietro ai furti ci sia la stessa banda. Decine le abitazioni passate rassegna più o meno tra le 18 e le 20 di ogni pomeriggio. I topi d'appartamento agiscono in pochi minuti, riescono a forzare gli accessi privi di sistema di allarme e introdursi nelle abitazioni. In alcuni casi sono stati i proprietari di casa a sventare i colpi beccando i ladri all'interno delle case. In questo video invece il furto è andato a segno e le telecamere di sicurezza hanno immortalato i due che con relativa tranquillità lasciano l'abitazione. Sono a volto coperto e con un cappuccio che nasconde la loro identità.